carissimi amici ben ritrovati in un precedente incontro abbiamo introdotto il tema della chiesa gnostica e ne abbiamo in qualche modo indicato quelli che sono i suoi periodi storici non volendomi ripetere inserirò in descrizione di questo video il link del precedente dialogo mi sono interrogato molto sul quale dovesse essere il seguito di quella introduzione mi sono detto farò una mini conferenza dedicata a quello che era il pregresso cioè quelli movimenti di piccole chiese che hanno portato alla nascita della tensione esoterica spirituale intellettuale culturale che ha determinato la nascita della chiesa gnostica oppure devo fare una mini conferenza che abbia per oggetto invece l'humus tutto il pregresso storico cioè l'inquadramento storico-culturale che so io l'esposizione generale la modernizzazione di massa lo spostamento del baricentro dall'agricoltura al commercio all'industria oppure cosa mi sono detto beh per quanto questi aspetti siano importanti forse meglio inquadrare più che altro quella che è stata la vera e propria genesi della chiesa gnostica di francia chiesa gnostica che abbiamo visto trovare un artefice un padre un padre nella figura di julius d'oignel e non solo avere un padre ma avere anche tutta una serie di indicazioni di quelli che sono stati i passaggi che ci hanno condotto ad essa alla sua forma compiuta e quelle che poi sono state le varie ramificazioni dato che noi in qualche modo godiamo anche di tutta una serie di strumenti di di resoconti di narrazioni di diari che trattano proprio della genesi dei momenti costitutivi di questa chiesa a mio avviso è utile dare questi resoconti dare lettura di questi resoconti dare memoria in quanto ci permetteranno anche di comprendere da un lato lo spirito dei tempi e dall'altro anche lo spirito di questi personaggi che in qualche modo hanno rappresentato la ripresa del movimento esoterico del movimento occultistico contemporaneo sono quegli gli anni del martinismo della golden dawn dell'ordo templi orientis della chiesa gnostica del memphis e del mistrime e come tutti questi depositi più o meno iniziati c'è più o meno con antenati nobili più o meno animati da spirito di ricerca più o meno autonomi a un certo punto iniziano a frammischiarsi fino ad arrivare ad un momento in cui il grande maestro il lo ierofante il primate di uno di questi depositi si trova in virtù di tutta una serie di collegamenti diretti o indiretti laterali o collaterali a possedere le linee anche degli altri depositi iniziatici e vedremo non in questa non in questo dialogo come la chiesa gnostica giochi un rapporto molto particolare all'interno di tutto questo insieme che noi possiamo definire fra massonico che noi possiamo definire occultistico giocherà un ruolo fondamentale non in questa fase ma nelle fasi successive o per lo meno nel passaggio in cui primate della chiesa gnostica diviene un personaggio dal nome che porta il nome di jambrico un ultima incidentale la chiesa gnostica nasce in francia nasce in francia e e insieme al martinismo e agli eletti cohen e a un determinato tipo di massoneria fa parte di della corrente che noi possiamo definire latina del della ripresa dell'esoterismo contemporanea del movimento esoteristico contemporanea a cui possiamo non contrapporre ma in qualche modo possiamo delimitare l'altra corrente che è la corrente inglese e tedesca con la golden dawn e con l'orto templi orientis detto questo prima di procedere a quello che è la lettura e mi scuso però come vi ho detto in precedenza è fondamentale per comprendere il sentimento e lo spirito del tempo e delle persone cioè alla lettura di due resofondi che inquadrano la nascita della chiesa gnostica permettetemi adesso due accenni biografici attorno a quello che è stato il padre della chiesa gnostica che sappiamo essere julius d'oignel julius d'oignel nasce in francia a moulin nel 1842 quindi perché noi abbiamo tutta una serie di informazioni certe perché è molto ravvicinato il tempo che ci separa da noi uomini di oggi a questi personaggi e nello specifico a d'oignel dove nasce beh d'oignel nasce in una famiglia borghese della della periferia cioè non centrale rispetto al cuore della francia di profonda devozione cattolica e vedremo come questo è un elemento che riscontriamo in tanti 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 altri personaggi che costelleranno con i nostri incontri questa famiglia devota trasmette nel giovane d'oignel tutta una serie di valori legati proprio alla tradizione cattolica una forte vocazione religiosa e una forte tensione morale il sogno di d'oignel in questa sua fase iniziale della vita è quella di addivenire di diventare sacerdote anche questo è un altro elemento che tenderà a ripetersi c'è un particolare molto interessante d'oignel fin da giovane fin da bambino fin da adolescente era in qualche modo soggetto a tutta una serie di visioni di spu di sogni a sfondo religioso una forte tensione verso il soprannaturale una forte propensione per tutto ciò che era mistico nel 1859 quindi dopo 18 a circa 17 anni lui entra come novizio gesuita dove entra in seminario questa sua permanenza in seminario dura poco anche questo un altro elemento il seminario che contraddistinguerà altri personaggi ma nello specifico quello che contraddistingue invece d'oignel è il fatto che dopo due anni viene cacciato viene allontanato abbandona se preferite una modulazione più soft il seminario perché abbandona il seminario perché viene cacciato perché continuamente riversava sugli altri novizi e sui suoi superiori tutti i propri sogni tutte le proprie visioni tutta questa modalità alla giovanna d'arco se vogliamo definire un attimino questa tensione d'oignel andava quasi in catalessi d'oignel si fermava all'improvviso e iniziava ad avere queste visioni che cosa accade accade che si reca a parigi il centro pulsante della francia di ieri e di oggi dove si si diploma alle colte chart alla scuola delle carte cioè fondamentalmente ad una scuola che lo indirizza una scuola superiore che lo indirizza a quello che poi sarà il suo lavoro il suo lavoro come impiegato di archivio come archivista d'oignel eserciterà questo ruolo sia nella vita cosiddetta profana sia all'interno delle istituzioni iniziatiche dove lui sarà accolto d'oignel si sposa la moglie di d'oignel proviene da una famiglia di estrazione repubblicana e massonica libera muratorica lui si adegua ad essa entra viene iniziato sia il golf grande oriente di francia dove svolgerà il ruolo di archivista ma avviene ma la sua tensione la sua tensione spirituale lo porta a frequentare il mondo delle cosiddette piccole chiese anche questo è un elemento che ritroveremo ritroveremo in papus ritroveremo nell'abate julio ritroveremo in elifas levi ritroveremo in tu in jambricò ritroveremo in tutto quello che è stato il movimento di uomini che ha dato vita alla ripresa contemporanea dell'esoterismo chi incontra d'oignel d'oignel come può sedire incontrano il grande istrione del tempo il grande divulgatore del tempo incontrano gérard incontra gérard en cosi incontra papus viene associato aderisce al martinismo e fonda una sezione di studi esoterici a orlean la sezione di studi esoterici in questa prima fase del martinismo era praticamente il centro divulgativo il centro culturale come archivista come archivista lui riesce a unire due passioni allora o meglio unisce una passione a uno stato di necessità lo stato di necessità è il lavoro la passione è l'erudizione in ambito spirituale in ambito esoterico come archivista dicevo lui ha accesso a tutta una serie di documenti di libri di resoconti che trattano di due questioni l'ognosticismo storico e il catarismo a questo punto d'oignel inizia a elaborare una propria sintesi una propria sintesi di vita tra ciò che lui è in quel momento un archivista tra ciò che voleva essere un sacerdote un uomo di religione e ciò che fondamentalmente raccoglie invece la sua passione che è l'esoterismo questo determina in lui la volontà ma anche l'esigenza psicologica di fondare una propria struttura religiosa che in qualche modo si rivolgesse da un lato a quello che era l'ambiente iniziatico e dall'altro che in qualche modo fosse posta in continuità seppure una continuità alternativa al cristianesimo di cui lui fondamentalmente si sente parte si sente qualificato a rappresentarne in qualche modo un anello sacerdotale c'è un elemento tutto questo d'oignel riesce anche a farlo o perlomeno si sfarina all'interno di se della della sua mente grazie a tutta una serie di frequentazione abbiamo detto con pacus ma importantissima in questo frangente è quella con la duchessa di pomar la duchessa di pomar è una nobile donna parigina con profondi interessi verso la spiritualità e l'esoterismo che ha un salotto un salotto un punto a quel tempo un punto focale d'incontro come fondamentalmente sono punti focali d'incontro le librerie come fondamentalmente sono punti focali di incontro i bistrò e le taverne con una differenza che mentre negli ultimi tre in qualche modo l'oratore il ricercatore il divulgatore era posto a contatto anche con una pluralità di persone più o meno digiune rispetto a determinate argomenti in questo ambito invece siamo all'interno di una realtà raccolta di una realtà separata di una realtà anche di ascolto rispetto a tutta un'altra serie di personaggi anche loro ferrati su un determinati argomenti che in qualche modo ti possono dare contributo ti possono dare arricchimento allora iniziamo col primo resoconto il primo resoconto è la descrizione e scusatemi la dovrò leggere per essere quanto più fedele di questo salotto della duchessa di pomar inizia la lettura posta nel cuore di parigi con la sua sala delle guardie ove stavano in perpetua veglia uomini d'arme scolpiti col suo scalone di marmo fiancheggiato da capolavori con la biblioteca ricca di libri più dotte più cari con la sua sala del trono infine con tutto il suo arredamento e con tutta la sua struttura quella di mora ricordava stranamente hollo e coro il prediletto soggiorno della regina martire maria stuarda quindi abbiamo una indicazione che ti dà il senso della ricchezza della antichità di una certa tradizione nobiliare che si perpetua ed è una cosa molto importante nella psicologia di determinati personaggi cioè quello che è il riconoscimento il ricollegarsi ad una determinata tradizione attraverso un rapporto umano ed ivi infatti abitava una discendente di casa stuarda che nel ricordo aveva fatto il culto che nel ricordo della regina martire aveva fatto il culto della sua vita questa era l'edi maria cittanes duchessa di pomara e quella sua sala del trono che era ad un tempo salotto e cappella cenacolo e oratorio col suo soffitto dipinto rappresentanti cerchi angelici e la sacra stella del pleroma spirituale era il sovrano santuario di tutto il movimento neognostico entriamo passiamo delle statue dei disorveglianti accediamo ad un'enorme libreria troviamo quadri troviamo immagini troviamo ricordi dell'antichità nobiliare e giungiamo dove in questo santa santorum in questo spazio dove fondamentalmente alla presenza di determinati simboli si raccolgono queste persone che parlano di spiritualità che parlano desoterismo che parlano in iniziazione ivi troviamo svevenborgiani e spiritisti martinisti e teosofi carmeliti e gioanniti adepti della massoneria e canonici esoteristi di notre dame si incontravano in comunione di studi e di fede persone selezionate dalla duchessa afferenti a vari ambienti si incontravano in questo cenacolo di discussione ivi con il concorso dei più seri medium di europa si tenevano sedute medianiche di ordine elevatissimo lo spiritismo era a quel tempo un qualcosa un'attività profondamente sentita in tutte le fasce della popolazione e non era solamente rivolta alla necessità di dialogare di ascoltare i defunti ma di entrare in contatto con determinati personaggi a cui era riconosciuto un ruolo di guida un ruolo di grandi suggeritori spirituali e quello della duchessa di pomar viene detto era elevatissimo la stessa nobile donna descrive a questo modo il lavoro di ricerca spirituale svolto qui parla la pomara le nostre riunioni sono serete ci è vietato di parlarne a coloro che sono fuori dalla nostra cerchia che conta molti tra i più grandi spiriti di francia ma le ma la quale si è ammesse solo dopo una tra le più alte iniziazioni e delle prove molto serie quando vi dirò che non riceviamo le nostre istruzioni direttamente dalle più alte sfere voi comprenderete perché desideriamo mantenere il più stretto segreto che cosa abbiamo abbiamo l'ambiente riservato separato settato non solo dalla profanità ma anche da ambienti culturali che però non avevano determinati requisiti iniziatici che non erano selezionati che non erano ammessi a farne parte quindi la segretezza l'iniziazione la separazione elementi che in qualche modo possano solleticare una mente desiderosa di appartenenza e di prestigio e che cosa dice la pomà che loro ricevano degli insegnamenti a cui degli insegnamenti degli ordini a cui loro debbano in qualche modo adeguarsi e ottemperare si presume attraverso proprio queste canalizzazioni medianiche continuiamo si giunge adesso questo primo resoconto che in qualche modo determina e ci induce a riflettere a questo ambiente a questo ambiente effervescente a questo ambiente magmatico dove persone si incontrano portano la propria testimonianza discutano su quello che andrebbe fatto e su quello che era il mondo dell'iniziazione della spiritualità al di fuori di quelle che potevano essere le sedi la sede del golf del grande oriente di francia e le sedi delle loro particolari appartenenze in questo luogo una delle figure è d'uniel nel maggio del 1890 d'uniel e questo qui l'abbiamo visto nella prece nel precedente incontro a seguito di una seduta medianica di nuovo le canalizzazioni si sono parte integrante di questo processo viene consacrato vescovo da un sidono cataro preseduto dagli spiriti di 41 vescovi e come vi ho detto nel catarismo non ci sono mai state 41 diocesi diamo quindi adesso alla lettura del secondo resoconto noi abbiamo il resoconto di questa seduta spiritica e è importante questo perché ci permette col primo resoconto abbiamo inquadrato l'ambiente con questo secondo resoconto noi andiamo invece a sfarinare invece a sezionare quella che è stata l'atto costitutivo di questa chiesa il medium di cui non sappiamo il nome fece un segno a lady ci viene messa nel resoconto qui non sappiamo essere la pomara ella presa allora la bacchetta di evocazione che fece scorrere sul quadrante alfabetico e a mano a mano che muoveva rapidamente la bacchetta circea sulle lettere in rilievo dava dei colpinetti e brevi lettera per lettera formulò la seguente orazione preparatevi i vescovi del sinodon albigese di monsegur stanno per venire nello stesso tempo scintille improvvise scaturirono in serie dai muri dell'oratorio dell'oratorio quindi erano all'interno di una cappelletta consacrata il ritratto della regina maria si animò l'antenata martire un sorriso errava sulle sue labbra dipinte e fosforescenze si formavano nei suoi occhi non potrei non potrei trattenere un grido maria di scozia sembrava vivere un nuovo silenzio più intenso del primo più prodigioso più significativo si estese nell'oratorio incantato un soffio freddo accarezzò la mia fronte sentì distintamente una mano dolce che si posava sulle mie ginocchia i capelli mi serizzarono in testa e il vento dell'invisibile mi sfierò guardai furtivamente la mia vicina di destra la contessa x la mia vicina di sinistra la principessa x erano pallide molto pallide i loro nervi sovrecitati vibravano evidentemente eravamo sotto l'influenza allora un ritmo lento e dolce salì dalla tavola divenuta un organismo cosciente la tavola batteva ritmicamente il ritmo montava montava di sonorità in sonorità scandendo la misura sviluppandola accentuandola gonfiandola come se due tamburi stessero martellando il motivo patos crescente patos questo durò dieci lunghi minuti buoni e quando la marcia trionfante del ritmo ebbe preso fine un grande colpo risuonò al centro della tavola e la bacchetta ripresa a correre sul pannello queste parole furono magicamente composte guil habert de castre vescovo di monsegur e 40 vescovi dell'alto sinodo del paraclito il cristo che cura sono qui un impulso irresistibile ci fece allora alzare in piedi l'evocazione cominciò la preghiera al paraclito anzitutto poi il saluto ai vescovi gnostici che per inciso erano catari poi l'interrogazione solenne non ho più i termini presenti alla memoria ma garantisco il senso della comunicazione magica era guil habert de castre che parlava ed ecco che diceva siamo venuti a voi dal cerchio più lontano dei cieli impirei vi benediciamo che il principio del bene dio sia eternamente lodato e benedetto glorificato e adorato amen siamo venuti a voi nostri benamati tu valentino valentino e sarà il nome di duiniel il nome da vescovo gnostico tu fonderai l'assemblea del paraclito quindi e la chiamerai chiesa gnostica quindi gli viene dato questa continuità più che spirituale oserei dire spiritica ti annuncio che avrai elena come spirito assistente allora torneremo poi su questa considerazione mi basti dire che questo più spirito assistente doveva essere questa elena che ci richiamiamo all'elena di simon mago doveva essere la duchessa di pumar ti fidanzerai con lei sarà il suo sposo e lei sarà la tua sposa così è ma così non è andata e leggerete i vostri vescovi li sconsacrerete secondo il rito gnostico che non è dato di sapere qual era qua di preciso tu valentino sarai sconsacrato in questo oratorio ricostruirete insegnerete la dottrina gnostica è la dottrina assoluta prenderete per vangelo il quarto quello di giovanni è il vangelo dell'amore l'assemblea si comporrà di perfette di perfette lo spirito santo vi invierà quelli e quelle che deve inviarvi vi portiamo la gioia e la pace la gioia dello spirito e la pace del cuore ora in ginocchio voi che siete le primizie dell'agnosi stiamo per benedirvi un'emozione ben comprensibile ci aveva pervasi lacrime riempiva nei nostri occhi un'angoscia dello stesso voluttuosa e dolce stringeva i nostri cuori da parte mia sentivo un fuoco bruciante circolare nelle vene ci mettemmo dunque in ginocchio e mentre la tavola riprendeva il suo ritmo sonoro laura ci avvolse come un turbinio e risuonò una voce che diceva che il santo pleroma vi benedica che gli eoni vi benedicano vi benediciamo come benediciamo questo è il resoconto della seduta medianica sfariniamolo un attimino allora questa investitura avviene all'interno di un oratorio della duchessa di pomar di questa sua cappella di preghiera che usava essere insita all'interno delle case nobiliari sappiamo per certo che vi era la duchessa di pomar sappiamo per certo che vi era doignel che ha ricevuto questa investitura non sappiamo se vi erano altre persone lì viene detto di sì che c'era una principessa che c'era una contessa però non sappiamo i nomi di queste si presume che vi fossero altri altre persone presenti che in qualche modo formavano il primo consenso di fedeli con tutta probabilità fu la duchessa di pomar in qualche modo a dare l'investitura materiale a doignel in forza di cosa è in forza di quello che era il suo titolo nobiliare a validità non a validità non è compito mio stare qui a discorrerne in questo momento potete ben comprendere come io io veda tutta questa vicenda la duchessa di pomar dall'investitura a doignel un'investitura ma la duchessa di pomar sappiamo che si sfilò dal suo ruolo di elena terrestre vedete questo è un punto a mio avviso molto importante che io adesso accenno perché siamo in conclusione di questa conferenza e poi lo riprenderemo nelle prossime non è Reus non è Alistair Crowley non è Crumeller non è Sam and Weor che introducano la dinamica sessuale all'interno del perimetro della chiesa agnostica e nelle sue successive evoluzioni ma è il suo padre fondatore colui che porta il nome di doignel Doignel ha come idea quella della quella di una diarchia rappresentata da l'uomo sacerdote che governa le energie e la donna Elena che le canalizza e loro come viene indicato nel resoconto dovrebbero unirsi debbono unirsi all'interno di una determinata ritualità che a questo tempo era tutta in divenire nella mente nella fantasia di doignel affinché sia possibile creare è in qualche modo un richiamarsi seppur permettetemi l'incidentale grossolano madornale e buccaccesco in definitiva ma che sempre accompagnerà i reconditi di tanti a quello che fondamentalmente è il rapporto che sussiste fra le sigizie del pleroma che sappiamo avere una componente maschile e femminile che debbano necessariamente unirsi ma qui è unione mentale unione spirituale per creare doignel si richiama a tutto ciò mi si permetta un'ulteriore osservazione come ho detto in precedenza i catari non hanno mai avuto 41 diocesi ma ancora e questa è l'altra annotazione i catari non avevano una ritualità magico-sessuale era completamente esclusa tant'è che i perfetti e anche questo qui l'abbiamo visto in un precedente incontro che abbracciavano la regola facevano voto di rinuncia a tutti quelli che erano i piaceri e le passioni carnali punto riassumiamo la chiesa agnostica che vedremo evolversi e frazionarsi in diversi in diverse correnti a un padre che è doignel un uomo che proviene da una famiglia borghese di profonda vocazione religiosa cattolica che cerca di entrare in seminario ma che ne viene allontanato a causa delle sue continue visioni dei suoi sogni divenuto archivista entra nel Goff nel Grand Oriente di Francia ed entra nel Martinismo ed entra nell'ambiente delle piccole chiese coltiva le sue passioni dà vita alle proprie ricerche in qualche modo individua una via alternativa a cosa? al suo desiderio di essere sacerdote di incarnare un potere religioso incontra e viene ammesso al salotto parigino della duchessa di Pomar un salotto molto riservato entra in contatto con tutta una serie di personaggi ascolta elabora fortifica il suo proprio pensiero e a un certo punto organizza insieme alla duchessa di Pomar una seduta spiritica con medium dove lui dovrebbe essere il punto finale il punto ricevente di una canalizzazione volta ad insegnerlo del ruolo di vescovo cataro ovviamente senza continuità ma di fondatore di una nuova chiesa della chiesa gnostica della chiesa gnostica di Francia che poi giungerà e lo vedremo nelle mani di Jean Bricot tramite Jean Bricot in Reus tramite Reus Alistair Crowley tramite Reus o Alistair Crowley in Crumeller da Crumeller e per ognuno di questi passaggi frammentarsi in tante tante altre correnti ma ricordatevi ricordatevi bene che questi fenomeni questi dinamismi hanno diverse chiavi di lettura il chiave di lettura della persona in buona fede che ricerca un approccio spirituale la chiave di lettura di colui che invece ha necessità di gestire un proprio ambito di potere è la chiave di lettura o di interpretazione o di implementazione di quello che potrebbe essere un centro di trasmissione tra virgolette iniziatica non cavallerisca non di arte di mestieri ma religiosa al prossimo incontro dove andremo a trattare quella che è la storia lo sviluppo della chiesa gnostica fino al momento in cui Doniel lascerà il proprio scranno il proprio seggio il proprio trono di primate mi raccomando se mi volete bene mettete mi piace al video sottoscrivete il canale e ponetemi delle domande che potrebbero essere temi da sviluppare in prossimi incontri perché io non so esattamente che cosa è che può suscitare il vostro interesse a presto a tutti e a ritrovarci